Presentato il nuovo organigramma che gestirà le giovanili della Turris. Lavoro di squadra e un'unione di intenti sono gli ingredienti su cui si basa questa nuova collaborazione, inaugurata ufficialmente nella giornata di ieri nella sala stampa dell'Americo Liguri di Torre del Greco. L'incarico passa dal vicepresidente Vincenzo Toriano, incaricato negli ultimi anni a gestire le giovanili, ai tre imprenditori Salvatore Romano, Raimondo Cozzolino e Filippo Improta. Con orgoglio presento Salvatore Romano, Cozzolino e Filippo Improta, tra l'altro nipote d'arte del baronetto di Posilivo, mio grande amico. Stasera presento loro perché saranno delle persone importanti per il futuro della Turris. Perché se così non fosse avrei sbagliato la prossima programmazione di tutta la Turris, non del settore giovanile, non della scuola calcio. È tutto un solo progetto. Tanto è vero che questa decisione che abbiamo preso io e Vincenzo assieme di poter allargare un po' la base, chiamiamolo societaria, anche se così ancora non è, è perché io ho bisogno di persone come Vincenzo più vicine alla prima squadra. Perché gestire, e quest'anno me ne sono accorto, gestire una squadra in Liga Pro non è la stessa cosa che gestirla tra i direttanti. Sono imprenditore nell'ambito del Corallo, quindi mi occupavo d'altro solamente di Corallo fino a qualche tempo fa. Oggi, grazie all'opportunità che ci ha dato il Presidente Colantonio, il Vice Presidente Doriano, di poter prendere e gestire questa parte importante della società, per noi veramente un onore. Soprattutto per me, che sono i torri, al di là del fatto che ho giocato da giovane, qualche partita l'ho fatta. Sono veramente molto orgoglioso di poter far parte di questo gruppo e per la possibilità che il Presidente ci ha dato. Anche io sono l'altro ragazzo di Torre del Greco, quindi per noi diciamo che l'entusiasmo e l'impegno sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente, doppio. Ringraziamo chiaramente il Presidente e il Vice Presidente per averci dato questa opportunità. È chiaro che questo entusiasmo che noi ci abbiamo messo dall'inizio abbiamo fortemente, seriamente intenzione di tramutarlo poi in un impegno costante, importante, a partire dal primo ragazzino fino all'ultimo dei calciatori in rosa della prima squadra. Come ha detto il Presidente siamo tutti d'accordo, cercheremo di fare un tutt'uno. C'è voglia di ripartire, c'è voglia di fare bene. A noi poi è stata data questa opportunità di venire a collaborare con un club che sembra debba fare soltanto bene, sembra debba soltanto crescere e deve dare, deve portare i suoi risultati. Noi come nuovo gruppo abbiamo intenzione di collaborare, non dettiamo assolutamente alcun tipo di legge nuova, anzi siamo, come diceva poco anzi il Presidente, siamo un'unica famiglia quindi di conseguenza lavoreremo per apportare benefici soprattutto alla Turris. Presentato anche il ritiro estivo di preparazione che si terrà dal 19 luglio al 3 agosto a Campitello Matise. Novità annunciate anche per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Il patron Colantonio, infatti, ha espresso i suoi dubbi a causa della situazione stadi non ancora chiara. Non so se quest'anno faremo gli abbonamenti perché non vorrei trovarmi nella stessa situazione dell'anno scorso perché la Turris è stata l'unica società che ha dato la possibilità a coloro che l'hanno richiesto e non tutti, questo sicuramente, e non tutti, di riavere l'abbonamento che non avevano usufruito quest'anno in corso. Però finché non vedrò la situazione chiara gli abbonamenti non saranno fatti.